Prima ha aggredito due donne fuori da un ristorante del centro, poi ha iniziato a minacciare anche la proprietaria ed infine ha preso a calci i poliziotti intervenuti per fermarlo, che alla fine lo hanno arrestato per spaccio oltre che per resistenza pubblico ufficiale. Momenti di tensione che si sono vissuti venerdì notte attorno a luna, quando sulla linea del 112 è arrivata la segnalazione da parte di alcuni passanti. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della questura di Arezzo. L'uomo in evidente stato di alterazione alla vista dei poliziotti ha tentato di fuggire ed ha anche cercato di sottrarsi al controllo degli agenti con calci e pugni, ma alla fine è stato bloccato e portato in questura. Durante la concitazione gli sono però accaduti da una borsa tracolla diversi involucri in celofan. Dalla perquisizione è emerso che addosso aveva 82 dosi di hashish e 3 involucri di cocaina. Per l'uomo, 23enne, gambiano, irregolare in Italia, è così scattato l'arresto.